Siamo più di te Prio, è un barbone. OOOH! Che è leggendaria qua dentro. Eeeh! Sto facendo PENG! OOOH! ADPG! Sì, però, secondo me è troppo leggendaria. No, no, grazie. Oh, oh! Oh, dai fermo! Vorrei ricordare, risoluzione in quattro casi, eh. Oddio, ci quanta voglia, raga, porto Dio. Due leggendari. Cosa ti manca? Oh! Ah, me ne sto, raga. Cosa? Due, raga, raga! Ma c'è la pgbass altre, aspetta. Ma perché? Ma non se ne trova solo una, in teoria. Ma perché? Ma non se ne trova. Aspetta, non l'ho finita, non l'ho finita. Ma c'è due pgbass? Ho trovato, eh. Ho trovato un bastardino. Perché due scolettorie non dovrebbe essere una leggendaria? È Prio Cassino. Leggendaria, leggendaria. Porco Dio. Minchia, ha 38 sfere. Sfere e basta. Me ne sto, me le potenze. 88 sfere e basta. Che schifo. Che schifo. Inquadrate quello che è entrato solo il tronco. I due principes e porco Dio. Due leggendari.